Cari amici, un breve video a carattere divulgativo, divulgazione di base. Porto a conoscenza del mio pubblico qualcosa che molti di voi o alcuni di voi i più attenti conoscono. Però ho detto i più attenti e ho detto una cosa di una certa importanza. Non tutti fanno parte di questa categoria, quindi è meglio a volte fare anche delle pilloline e spiegare, o cercare, cercare di spiegare nella maniera più semplice e più sintetica possibile qualcosa. E in questo caso sono dati economici di una grande importanza, dati economici devastanti che sono stati resi noti circa 24 ore fa, quindi sono ancora piuttosto freschi. La notizia è di rompente, la notizia è di rompente. Leggo, perché mi sono fatto qualche appunto per non dire sciocchezze, naturalmente sempre prendere appunti, anche questo è un... La Germania dopo tre decenni, quindi tre decenni, dichiara il primo deficit commerciale. Il primo deficit commerciale. La Germania è in deficit commerciale dopo ben tre decenni, era tre decenni che non accadeva, e questi sono i dati riferiti a maggio, a maggio 2022. C'è una differenza in negativo di circa un miliardo di euro. Quindi in valori assoluti le importazioni sono maggiori, hanno superato le esportazioni. E stiamo parlando della Germania che come l'Italia è un paese a vocazione di export, che ha sempre fatto moltissimo export, e ha sempre basato il suo vero benessere, nel caso della Germania appunto all'export. E in Italia il fatto di restare a galla, sempre legato all'export. E' l'export che ci ha concesso, che ci ha permesso, se non altro, di rimanere a galla in Italia. Di rimanere faticosamente a galla. Ma chiudiamo questa piccola parentesi. Cosa succede in Germania? Cosa è successo, meglio? E cosa sta ancora succedendo? Sta succedendo che i costi dell'energia sono sempre più alti. Questa non è una novità e non riguarda solo la Germania, ma abbiamo avuto un netto incremento dei costi dell'energia. Abbiamo avuto un rallentamento della produzione interna della Germania stessa, perché anche il mercato interno, naturalmente i consumatori sono impauriti, sono preoccupati e non hanno tutta questa voglia di spendere. e anche a livello di domanda globale, quindi a livello globale, la domanda a livello globale dei beni made in Germany è scesa, è scesa ed è bassa. C'è qualcosa come il meno, le esportazioni tedesche hanno fatto meno 54,6. un dato da paura, meno 54,6 le esportazioni tedesche verso la Russia in un solo anno. Quindi vedete uno scenario molto, molto, molto negativa. Ricordo che la Germania è la Germania, è un gigante economico su cui si basa tutta la UE e che ha spesso prosperato ad anni degli altri paesi. Quindi la Germania ha un ruolo specifico enorme anche all'interno degli equilibri della Nato, quindi non solo dal punto di vista economico. e il fatto che la sua situazione sia così in caduta libera quindi è molto, molto, molto importante e potrebbe, si spera, che abbia davvero delle ripercussioni. Dovete sapere che addirittura il ministro dell'economia, quindi non il primo tizio che passa per strada, ma il ministro dell'economia domenica sera, tardo pomeriggio sera, dell'altro ieri, sulla TV pubblica tedesca ha dichiarato proprio questo. Senza gas russo, senza materia prima russa, tutta l'industria pesante della Germania va a farsi friggere e la potentissima confindustria, i sindacati, il sistema paese, non è certo così contento e così disposto a suicidarsi. Si ha questa chiara sensazione che mentre in Italia ci sia anche, si valuti la possibilità di suicidarsi, di immolarsi per la supposta libertà, per i valori occidentali, non meglio identificati, per l'Ucraina e per Zelensky, in Germania non paiono proprio interessati a questo. Quindi speriamo davvero che la Germania si smarchi e occhio alla Germania. Detto questo, vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a iscrivervi al mio canale, mettete il like, vi chiedo di mettere il like che sicuramente aiuta, vi faccio presente ancora che mi trovate anche su Shark Tube e volendo sul canale Telegram Giorgio Riccardini. Grazie ancora per l'attenzione e alla prossima video pillolina.